Questa Cassazione si pronuncia su un ricorso della difesa, quindi c'è già stata la preparazione della difesa per questo intervento. No, Coppi ha detto che i tempi così ristretti non gli permettono di preparare adeguatamente la difesa in Cassazione. Allora se ci vogliono 15 anni per due cittadini normali, è mai possibile che quando le cose riguardano Berlusconi o si inventano dei reati, io sono della scuola di Ostellino, Corriere Ostellino, o si stanno delle forzature da parte di un'amministratura che in Italia lo sappiamo, dai Di Pietro a Ghingroia ai De Magistri sono più preoccupati di fare carriera politica. Quindi lei dice che hanno fatto un giudizio per direttissima contro Berlusconi, sta dicendo questo? Io sto ripetendo quello che ha detto uno dei più seri avvocati italiani, silenzioso. Vabbè però è l'avvocato coinvolto in questo procedimento.